Plank. App di allenamento per Android. Benvenuto in Planka. L'app per il fitness che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di fitness. Se stai cercando un modo efficace per rafforzare i tuoi muscoli e migliorare la tua forma fisica. Allora Planka è la soluzione perfetta per te. A seconda del tuo livello di allenamento. Sono disponibili tre livelli di difficoltà. Ogni giorno il carico aumenterà gradualmente. Dopo aver completato tutti gli esercizi. Ti consigliamo di aumentare il livello di difficoltà. Che tu stia cercando di bruciare i grassi. Migliorare la tua postura o semplicemente costruire muscoli. Planka ti aiuterà a ottenere i risultati desiderati. Grazie. Grazie. Grazie a tutti